Un'altra giraffa condannata a morta in uno zoo danese dopo il piccolo Marius, eliminato con una fucilata alla testa e smembrato in pubblico nello zoo cittadino di Copenhagen, un altro Marius rischia di fare la stessa fine nello zoo Yilands Park. Il Marius adulto, 7 anni, potrebbe essere eliminato per il probabile acquisto di una femmina e la presenza di un altro maschio più giovane.